Ciao amici del centroverde, oggi vi parliamo del decespugliatore a batteria di casa Ego Power, l'ST1510 Power Load. Il decespugliatore ST1510 è una macchina a batterie con motore senza spazzole brushless. Su questa macchina possiamo montare batterie a tecnologia agli ioni di litio da 56 volt, che vanno da 2,5 a 10 ampere ora, ma anche le più potenti batterie a zaino che possono arrivare a 28 ampere ora di capacità. La struttura della macchina con impugnatura ergonomica che assorbe gran parte delle vibrazioni e doppio grilletto di azionamento per maggiore sicurezza, evitando così spiacevoli azionamenti accidentali. La velocità di lavoro è variabile in base alla pressione e va da 4000 a 6000 giri minuto, paragonabili ad un tradizionale decespugliatore a motore da 25-30cc. Arriviamo all'impugnatura con regolazione rapida dell'altezza. Grazie al pratico gancio potrete regolare l'impostazione dell'impugnatura in modo rapido e regolarla in base alle vostre comodità. Passiamo alla parte più innovativa di questo decespugliatore, la testina con tecnologia Power Load, il nuovo sistema di ricarica del filo brevettato da Ego Power, che consente di ricaricare il filo nella testina in modo rapido e senza l'utilizzo di particolari attrezzi. Come carichiamo il filo su questa testina? Basterà inserire il filo in uno dei due fori, ho questo o questo, quindi in questo caso lo inseriamo in quello di destra, lui sbuccherà in quello di sinistra, prendere il filo, successivamente basterà azionare il tasto avvolgimento Power Load ed il gioco è fatto. La testina è dotata di tecnologia Batti e Vai, quindi non dovrete estrarre il filo manualmente, ma basterà dare un colpo a terra per far uscire il filo, quanto basta, per proseguire le vostre operazioni di taglio. E se il filo uscito è troppo, nessun problema, perché la macchina è dotata di una lama taglia filo, che con la rotazione della testina, porterà il filo in eccedenza a sbattere contro la lama e a tagliare il filo che non serve. Una macchina che offre prestazioni e massimo comfort, in fase di taglio e di ricarica, destinata a chi cerca un prodotto affidabile e di ottima qualità. Ricordo a tutti che i prodotti Ego Power godono di due anni di garanzia sulle batterie e tre sul corpo macchine e che il cliente può, senza costi aggiuntivi, estendere di un anno semplicemente registrando il prodotto nel sito di Ego Power. Per maggiori informazioni, cliccate sul link in descrizione. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Al prossimo video dal Centro Verde. Ciao! 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 Ciao!